Hanno subito trovato rifugio al canile di Bagliate d'Alta, dieci cani di razza Mirotek, di cui quattro cuccioli, ma adesso aspettano un'adozione sicura. Sono i cani di Cristina Gugu, l'allevatrice 50enne, stroncata da un malore dovuto probabilmente al freddo e alla fatica, mentre a piedi stava tornando nella sua casetta di legno nell'oasi di Chiocciola, un bosco a 5 km da Bagliate d'Alta, dove viveva e allevava gli esemplari. Il suo corpo era stato ritrovato solamente martedì, il giorno dopo il decesso, senza vita in mezzo alla neve, con le buste della spesa ancora in mano. Assieme a lei anche tre dei suoi cani, ormai senza vita anche loro. Una storia che ha commosso tutti. Cristina ricorda il sindaco di Bagliate d'Alta, era arrivata in Italia alcuni anni fa, aveva deciso di vivere nella casetta di legno nell'oasi e di far crescere lì i suoi cani. L'amministrazione comunale negli anni si era spesa per trovarle una sistemazione migliore, ma ancora non era stata individuata un'altra soluzione. Ed adesso il drammatico epilogo, ma ora c'è anche un'altra emergenza, trovare una famiglia ai cani rimasti soli. Si tratta di esemplari di taglia grande e robusta, utilizzata per la guardia del bestiame dal carattere leale.